Ho l'adrenalina e la febbre, parlo di notte, da solo. Chi sono queste strane persone con delle maglie già? Possiamo fare una foto? Un selfie. Hai il rumo sfocato. Senti, ma dov'è il cancellatore? Lì via. Giancarlo, posso pulire? Ah, quindi non c'entra niente. Dov'è che li stai cevendo? Dov'è che lo stai cevendo? Sono solo sette ore che lo aspettiamo. Però ai quattro canti c'è molta gente che lo mette. Dove hai? Ai quattro canti, è la porta dell'Italia. Siamo a un gioco, i pazienti. Sì. A un gioco. Salvini ha detto che la vuole incontrare. Ah, lei ha fatto, ho fatto. Grazie. Salvini ha detto che la vuole incontrare. Devi parte più un po' come la mano. Non vi chiedo molto. L'ha detto dall'Oceano Inziato. Ha detto che ho incontrato Berlusconi tante volte, adesso voglio incontrare Grigio. Siamo a me. No, non c'è un problema. Eh, non c'è un problema. Eh, non c'è un problema. Eh, non c'è un problema. Ragazzi, un po' di spazio. Ma come è sbagliaria? Dai, vai, vai. Non c'è un problema con quoi sbagliato? No, non so n'è troppo loichtetano. Ma scade. Faccio faccio. Giovanni. Sì, c'è un po' di torri. È rimasto in me la giocazione? Scusate, stiamo giocando.